La domanda ovvia che può nascere è questa. Come trovare il giusto equilibrio tra la regola della legge e l'amore misericordioso che Dio ha portato in Gesù? Dove in questa equazione mettiamo la nostra libertà? La salvezza non ci viene data attraverso le opere buone che compiamo ma è un dono della grazia di Dio. A noi viene chiesto di credere nella potenza di Dio. Facciamo nostra la salvezza con la fede e la fede si conferma e si rafforza solo nell'amore per Dio e per i fratelli. Ecco come la formula matematica si risolve da sé. Chi ha fede farà le opere della fede e queste opere gli apriranno la strada dell'amore che porta alla felicità. La libertà più grande dell'uomo è amare e lasciarsi amare. Quando parli di fede si è più propenso a parlare delle regole che la Chiesa impone o dell'amore che il compimento di tali regole porta con sé? Cosa è più importante per te? La giustizia o la misericordia?